ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale non sono sparita sono stata un po' impegnata in questi giorni e finalmente sto avendo del tempo per registrare allora tbr di gennaio sono già indietro sui piani ma va bene dettagli allora vi dico che intanto sto leggendo ogni giorno di david levitan ho tolto la copertina questo libro è un po sfigato perché l'altro giorno l'ho portata in bagno mentre facevo il bagno ma va e praticamente avevo lasciato sulla copertina e ovviamente adesso fa le onde brava brava sono molto intelligente poi portandolo in borsa non so che caspita l'ho messo dentro e boh è rimasto macchiato quindi vabbè pace comunque sono più o meno metà e mi sta piacendo tantissimo spero di riuscire a finirlo entro la fine di questa settimana contemporaneamente ho iniziato dormono sulla collina di giacomo di girolamo perché è ginormico e quindi voglio leggere un poco alla volta visto che comunque sono cioè pagine scritte un po così e quindi boh un poco alla volta prima di dormire insomma si porta avanti perché altrimenti finisce che io i libroni li lascio lì non li ignoro e non va bene comunque passando poi ai tre libri che io vorrei leggere questo mese sono l'ordine delle cose di parola capriolo quello che vi avevo fatto vedere qualche video fa che avevo vinto un gioco in un gruppo su facebook avrò cura di te di massimo gramellini e chiara gamberane gramellini mi piace come scrive la gamberane ma ok questo libro qui c'ero lì tipo da un paio da anni l'aveva letto chiara e ogni tanto mi diceva no ma devi leggerlo perché c'è questo pezzo così mi scriveva il pezzo e poi c'è questo pezzo così e mi diceva va bene ok me lo compro me lo leggo va bene e quindi è giunto il momento anche perché è abbastanza breve scritto abbastanza grande e ho voglia di robe brevi scritte in grande così visto che tanto ho il malluppone lì da 1234 pagine direi che ci sta bene così e poi di jean claudizzo casino totale edito da io che è questo qui è abbastanza breve anche lui e spero di riuscire a farcela poi sono stata bravissima perché sono riuscita a mantenere la cosa di non comprare libri per tutto dicembre probabilmente succederà lo stesso per tutto gennaio come sono brava anche perché tanto poi ci sarà il mio compleanno quindi qualcosa arriverà sicuramente quindi devo star buona e niente ci vediamo al prossimo video che sarà il wrap up delle poche letture di dicembre e alla prossima ciao ciao